Ci troviamo nel quartiere Angeli, alle spalle del Castello Pietrarossa, luogo turistico. Purtroppo qui ci hanno segnalato la presenza di una discarica abusiva. Come potete notare dalle immagini troviamo un po' di tutto, resti di mobili, di vestiti, ma anche di servizi igienici, Eternit frantumato, che lo ricordiamo è molto nocivo per la salute, causa di molti tumori. Poi troviamo anche diversi pneumatici. Vogliamo segnalare questa discarica sia per intervenire e soprattutto per sensibilizzare i cittadini Ad evitare di buttare rifiuti in zone pubbliche e per strada.